Solo due settimane dopo l'adozione dell'agenda sulla migrazione, oggi stiamo facendo un importante passo avanti. Stiamo passando da una programmazione politica a una politica vera e propria. Stiamo realizzando delle azioni concrete. Questo nuovo passo sottolinea la determinazione e l'impegno della Commissione ad attuare questa agenda. Vediamo che cosa abbiamo messo sul tavolo oggi. Abbiamo uno schema europeo di reinsediamento per 20.000 persone che sono in chiara necessità di protezione internazionale. Saranno reinsediate da paesi fuori dell'Europa a paesi dell'Unione Europea. Abbiamo anche una proposta per un meccanismo di emergenza per trasferire 40.000 richiedenti asilo. I siriani ed eritrei saranno reinsediati dall'Italia e la Grecia ad altri stati membri dell'UE su un periodo di due anni. Grazie mille. Grazie.